contro parigli, bottiglie contro bottiglie, per conto mio le austria ce l'ho vinto, io mi dichiaro vinto, mi guardi bene, io ho perduto, non trova lei che ha l'aspetto di nuovo disfatto? Questo è il colonnello di fronte al tenente Lussu. Non so, continuiamo? Semplicemente c'è la sala del casificio già pronta, ci lazziamo e ci andiamo a seguire da sotto.